Buongiorno a tutti, sono Stefania Calcagno, sono candidata capolista del partito pirata per la circoscrizione isole. Io vengo da una città di mare, ho sempre vissuto in una città di mare, una perla nel Mediterraneo, Alghero. Non sono una politica, sono la presidentessa della European Society for Computer Preservation e sono il Chief Technology Officer di una società che si occupa di sicurezza informatica. Ma conosco i problemi delle isole, perché ci ho vissuto, perché la mia famiglia ci vive. Conosco le dinamiche agricole, turistiche, enogastronomiche e so anche che in tanti anni la politica tradizionale non ha fatto niente per risolvere i problemi della gente. Non ha mai dato una risposta alle esigenze reali. Noi dobbiamo pensare alla continuità territoriale, dobbiamo pensare a un futuro sostenibile, alla pesca, all'agricoltura, alle nostre eccellenze. Dobbiamo pensare alle energie rinnovabili, abbiamo il potere del vento, la forza delle onde, il calore del sole. Noi potremo anche vendere le nostre energie al continente. Dobbiamo pensare a un turismo responsabile, coccolare, cullare, valorizzare i nostri tesori, i nostri meravigliosi fondali, le spiagge dorate, i tesori archeologici. Dobbiamo pensare alla tecnologia perché il digital divide uccide la conoscenza. Questi sono i punti su cui puntare e il Parlamento Europeo può e deve aiutarci, deve aiutare la politica locale. Il partito pirata si presenta in tutta Europa con un unico programma e può portare avanti questa voce con un unico grido. Noi esistiamo dal 2006 e abbiamo già conquistato tante nazioni, la Slovacchia, la Germania, la Svezia, l'Islanda. Per cui il 26 maggio, se vorrete, pensate pirata. Grazie.